Aeroporto di Dubai, Emirati Arabi Uniti. Sua eccellenza Benito Mussolini si trova in questo luogo esotico e misterioso dopo aver superato la barriera del tempo a bordo della macchina di Enrico Cazzaniga. Il bazar internazionale dell'aeroporto, simbolo dell'economia globalizzata, un'ala dedicata all'Italia, matrona di stile ed eleganza. Un cammello, simbolo del mondo arabo, cui i prodotti evocano i racconti delle millenonanotte, i datteri del deserto, i manufatti in oro e d'argento, un'automobile comodamente trasportabile come bagaglia a mano, una sezione dedicata alla Russia e alle bevande di settanti moscovite, dei parorecchi cinesi che fungono da scudo al vento gelido di Pechino, dei sottili parallelepipedi prodotti in Corea utilizzati come strumento di comunicazione intelligente e infine l'armatura di un guerriero giapponese, il samurai protetto da una corazza di acciaio dura e tenace come la testa di Mussolini.